Servizi per la prima infanzia a sostegno alle famiglie più bisognose con azioni, interventi e programmazione a lungo termine quanto messo nero su bianco in una delle ultime delibere di giunta regionale approvata all'unanimità su proposta del governatore Frattura e dell'assessore Petraroia. Attenzione concentrata sulle sezioni primavera riservate ai bambini tra i due e i tre anni le quali saranno garantite in tutto il Molise da questo anno scolastico fino al 2016 stanziati poco meno di 5 milioni di euro per i servizi socioeducativi assicurati già da ora ed è la prima volta, sottolineano Davia a Genova, per i prossimi tre anni. Nello specifico sono stati destinati circa 4 milioni e 400 mila euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 e la restante parte sui finanziamenti dati alla Regione dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Mezzo milione di euro sempre dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione inoltre è stato assegnato alle famiglie a basso reddito. Ci dedichiamo in particolare a chi ha più bisogno offrendo nei fatti la possibilità di usufruire di questi servizi sociali fondamentali, ha detto Frattura. Abbiamo destinato attraverso voucher, ha continuato alle fasce economicamente più deboli del Molise 466 mila euro per il 2013-2014. Partiamo da qui con un lavoro attento e delicato, questi ha concluso il governatore. Le nostre azioni concrete mirate a fornire servizi essenziali e di qualità a tutti i nostri cittadini. L'assessore alle politiche sociali e all'istruzione Petraroia sottoscriverà il protocollo d'intesa, parte integrante della delibera per le sezioni primavera, tra la Regione, l'ufficio scolastico e i sindacati della scuola Lanci e la Federazione Italiana delle Scuole Materne del Molise. Con questo atto contestualmente, ha spiegato Petraroia, istituiamo un tavolo di concertazione sulla prima infanzia con l'intenzione di farlo diventare un momento di valutazione e confronto continui per rafforzare e migliorare politiche e servizi che, ha sottolineato, attueremo per i bambini e le loro famiglie.